La Befana fa il pieno di presenze e riempie non solo le calze ma anche l'intera piazza della Libertà Macerata. Oltre 5.000 persone infatti hanno assistito ieri sera al tradizionale concorso Miss Befana organizzato dalla Proloco di Villa Potenza in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Proloco e i Vigili del Fuoco di Macerata. Un pomeriggio all'insegna dell'allegria, della musica e il là è stato dato dalla Proloco di Piediripa con il tradizionale canto della Pasquella e della generosità delle simpatiche vecchine che hanno sfilato sul palco allestito in piazza. Giurati speciali del concorso, gli alunni della Scuola Anna Frank di Villa Potenza coadiuvati nel compito dai due ospiti d'onore, il sindaco Romano Carancini che ha colto l'occasione per rivolgere i suoi auguri alla folla e l'assessore alla cultura Irene Manzi. Le esibizioni di danza da parte dell'associazione Arte Danza e gli sketch di un babbo natale imbucato e maldestro hanno aglietato l'attesa proclamazione di Miss Befana 2013, titolo assegnato finalmente alla mitica Befana Pelosona dal pianeta delle scimmie. Finale muzzafiato poi grazie all'esibizione offerta dai Vigili del Fuoco di Macerata che travestiti dalle Befane Clotilde e Maria Pea hanno inscenato una gara di discesa dalla Torre Civica, 64 metri di altezza, con atterraggio spettacolare e distribuzioni di caramelle in mezzo alle migliaia di presenti tornati per una sera bambini grazie allo spirito buono della vecchina che tutte le feste porta via.